Dal 6 dicembre per viaggiare sui mezzi pubblici sarà necessario il Green Pass normale, previsti più controlli ma non più mezzi a disposizione. Il trasporto pubblico continua dunque a mostrare le carenze croniche, con pochi mezzi e affollamenti a bordo, come si vede dalle immagini. Una situazione che non sembra essere migliorata in questi mesi di pandemia.